ed eccoci alla prima serie con cui si conclude il turno ragazzi in prima Alessio Giugni alla due Riccardo Alborghetti alla tre Joao Pedro Tumeleiro alla quattro Luca Collotte alla cinque Massimo Ogliari sei Lorenzo Tabladini sette Cristian Grizzo otto Luigi termine e siamo a metà gara con Marco Andrea Dallaglio che si porta al comando nuota in corsia tre la sua società Swim Pro SS nove Stefano Andreoli nel corsia sette al comando ai centocinquanta metri novantasei centesimi il suo vantaggio su Alberto Menin è stato ritrovato il tesserino federale di Edoardo Polloni il nuotatore lo può recuperare presso la postazione microfonica ormai epilogo di questa seconda serie con Marco Andrea Dallaglio che si aggiudica la prova portandosi nel contempo al comando della classifica provvisoria quando manca